Chiamatelo dente o sassolino nella scarpa ma per De Martino è arrivato il momento della verità ma, spieghiamo bene. Stefano De Martino è stato ospite di 5 minuti, il programma in onda su Rai 1 condotto da Bruno Vespa. Nella puntata di mercoledì 11 settembre, il conduttore si è raccontato a qualche giorno dal suo debutto ad Affari Twy, dove ha preso il posto di Amadeis. Tifo per i concorrenti, gioco contro il sistema e il dottore, ha confessato l'ex marito di Belen Rodriguez ed ex ballerino. Stefano De Martino ha parlato anche del Varietà Bar Stella, che deve il suo nome proprio alla famiglia De Martino. In realtà è un bar che ha esistito per 120 anni, le sue parole, dal mio bisnonno Michele, poi mio nonno Stefano con la gestione familiare anche di mio padre e io, per non essere l'anello debole della catena, l'ho portato avanti a modo mio e quindi è diventato un programma televisivo. Nell'intervista Stefano De Martino ha parlato anche del forte legame che ha con la sua famiglia e ovviamente col figlio Santiago, nato dall'amore con l'ex moglie Belen Rodriguez. Ho ricomprato a torre annunziata quella che era la casa dei miei nonni. È stato un modo innanzitutto per ricambiare i sacrifici che i miei genitori hanno fatto per me in tutti questi anni e soprattutto per conservare la memoria fisica di quelle mura e di tanti ricordi d'infanzia. Fu una grande soddisfazione vedere la faccia di mio padre, anche perché non è uno che accetta facilmente regali, ha detto orgoglioso Stefano. Il conduttore di affari tuoi ha parlato anche della sua passione per la danza, passione tramandata dal padre, che però ha combattuto per non fargli intraprendere la carriera di ballerino, non voleva che ballassi, ha detto Stefano De Martino, perché è un ex danzatore e quindi conosceva gli stenti della vita d'artista. Ha provato a dissuadermi in tutti i modi, ma a dieci anni si è dovuto rassegnare. Poi spazio per il figlio Santiago, dieci anni, per il quale ha confessato di fare doppi turni in Rai per poterlo vedere nel fine settimana. Registro affari tuoi durante la settimana, perché il weekend è dedicato a lui. Sta crescendo e ha sempre più bisogno della mia presenza. Potendo ritarare il piano di produzione, mi sono reso disponibile a fare anche i doppi turni dal lunedì al mercoledì, e infatti registriamo tantissime puntate al giorno. E questo mi permette di ritornare nel fine settimana da lui. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.